Siamo in compagnia di Antonio Tammaro, il coordinatore del coro parrucchiale della Chiesa di Santa Cristina. Un coro che c'è sempre per la Santa, c'è sempre nel commemorare i momenti più importanti che scandiscono tutti i festeggiamenti più importanti durante l'anno. Il coro c'è come in quest'anno dove in questa ricorrenza c'è stato addirittura il canto dell'Ino Nazionale insieme alla commemorazione dei defunti di Sepino. Insomma, un coro attivissimo e fedele. Effettivamente, sì, è un coro che è nato circa 30 anni fa sulla scia di un coro che già esisteva, però si è rinnovato in quel momento e da allora diciamo che io ho seguito un po' tutto il percorso fino ad oggi. e devo dire che tutti rispondono con entusiasmo ogni volta che vengono chiamati sia alle prove, anche perché poi si tratta di un coro di dilettanti che però danno l'anima per stare insieme e per cantare le lodi al Signore e soprattutto a Santa Cristina, a cui siamo legati profondamente. Ci sono degli inni ben specifici rivolti alla Santa? Sì, ci sono dei bellissimi canti che vengono definiti inni proprio per questa solennità del canto. Inni che sono nati dalla penna e dall'anima di due persone che sono nel cuore e nella memoria dei sepinesi. Due persone che appartengono al secolo scorso, non ci sono più però le ricordiamo costantemente. Si tratta innanzitutto di Don Nicola Vitone che è autore delle musiche di questi inni. Don Nicola Vitone è nato a Sepino nel 1913 e ha avuto un percorso musicale presso il Conservatorio Santa Cecilia a Roma dove si è diplomato in arte sacra, in composizione sacra e ha dedicato tutta la sua vita alla composizione sacra. Diciamo come avviene spesso per gli artisti di provincia che non sono molto conosciuti, la sua arte è venuta fuori dopo e è venuta fuori in maniera prorompente perché lui è stato uno degli innovatori dopo il Concilio Vaticano II. Prima il coro, la liturgia era completamente slegata dal popolo. Dopo il Concilio Vaticano II c'è questo richiamo al rinnovamento di cui Don Nicola era fautore. E lui, diciamo che fu in grado di creare delle melodie estremamente semplici ma molto molto complicate. Sembra un paradosso ma effettivamente è proprio così. Cioè, da un punto di vista della partitura siamo di fronte a delle melodie molto complesse e quando invece vengono suonate, eseguite, arrivano direttamente al cuore delle persone. Ecco, questa è stata la forza di Don Nicola e della sua musica. Ci hai detto che questa sera c'è stato un piccolo miracolo, quale? Ti vediamo sorridere. Un piccolo miracolo è questo. Sfogliando gli spartiti è venuta fuori la partitura scritta a mano proprio da Don Nicola Vitone che ce l'abbiamo qui di fronte. Per me è un'emozione. L'altra persona che devo ricordare, perché lui era l'autore della musica, però i testi sono venuti fuori da un altro animo veramente importante che appartiene al cuore, alla memoria di Sepino. Poi mi appartiene personalmente perché è mio nonno, Amoddio Ferrante, che è stato poeta dialettale, è sempre stato vicino alla comunità sepinese, ha vissuto intensamente e con fervore tutti i momenti della sua vita in connubio con Santa Cristina e con la comunità di Sepino. E lui ha scritto queste bellissime parole dedicate alla Santa. Accanto a noi Luciana Iammartino, un'amica del nostro viaggio in Molise perché spesso ci siamo ritrovati in questa chiesa bellissima qui a Sepino, nella chiesa di Santa Cristina, a parlare di storia e di arte legata non solo alla Santa ma alle tante opere che sono racchiuse davvero in questi scrigni, se li possiamo chiamare così, vero, Luciana? Esatto, proprio scrigni. Questa è la Cappella Carafa, come noi comunemente la chiamiamo la Cappella del Tesoro, proprio perché è ricca di opere. Se ci guardiamo intorno vediamo delle nicchie dove ci sono all'interno dei busti che rappresentano vari santi con le reliquie. Questo fu voluto dalla principessa Lucrezia Caracciolo, che era la moglie, del principe Francesco Carafa, che ha voluto la costruzione di questa Cappella. Quindi era una Cappella nobiliare, apparteneva alle alte nobiltà di allora che avevano il contato di Sepino. E fece costruire queste piccole nicchie. è tutto artigianato napoletano, all'interno ci sono le reliquie, risalgono alla fine del 1500, perché questa Cappella è stata inaugurata nel 1609, quindi ci sono voluti circa una decina d'anni per la costruzione di questa Cappella. Il pezzo importante è quello che noi vediamo sull'altare, un altare policromo, dove vi è il busto di Santa Cristina, sempre artigianato napoletano, che è in oro, argento. Quindi noi troviamo l'oro come sfondo iniziale, sotto l'oro vi è uno strato di rame e la parte successiva, posta quella proprio la testa, la corona e le mani, sono in argento. Questo busto fu voluto dal principe Carafa proprio perché la statua risalente, molto antica, il nostro parroco don Antonio Arenzale ci riferisce che è probabile la cripta di Santa Cristina, risalente al 1400, ancora prima, perché se noi pensiamo che l'arrivo delle reliquie è avvenuto nel 1099, vuol dire che già avviere il culto, arrivare fino al 1600 vuol dire che già avviere il culto di Santa Cristina e che risultava la cripta che posta in basso. Quindi quella statua, dalla credenza popolare, non vuole essere portata in processione di continuo una volta ogni 100 anni. Invece il busto, per questo il principe Carafa lo fece costruire proprio perché c'era la necessità di portarlo in processione quattro volte all'anno e quindi fece creare quest'opera artistica. Sul petto Santa Cristina ha una ricca trabeazione in argento e oro bianco con delle gemme che sono degli smeraldi che si intrecciano tra di loro e all'interno, essendoci questa teca con il vetro, si vede la reliquia di Santa Cristina che è un pezzo dell'avambraccio di Santa Cristina che è contenuto proprio all'interno di una struttura artistica che rappresenta l'avambraccio risalente alla fine del 1500 e che è posto all'interno del busto di Santa Cristina. Viene portato fuori solo durante le celebrazioni, durante le processioni e poi viene riposto all'interno di questo busto. La cappella, cosa dire di più? Il soffitto che noi abbiamo è stato costruito nel 1963. I dipindi rappresentano un po' l'arrivo delle reliquie di Santa Cristina, quindi non è riferito ai martiri, bensì alla venuta di Santa Cristina da Bolsena a qui a Stepino. Questo fu fatto in seguito al 1956 dove ci fu una forte nevicata. Il soffitto era fatto a cassettoni dorati che veniva descritta la storia di Santa Cristina. Con questa nevicata il soffitto crollò, quindi si decise di farlo diversamente. Certo, sono passati svariati anni, però alla fine si è riusciti. Sono stati dipindi da Leo Paglione che era un discepolo di Amedeo Trivisonno e rappresentano l'arrivo delle reliquie. Da questa parte troviamo i pellegrini francesi che provenivano da Montpellier ed erano diretti in Terra Santa e si fermarono qui proprio perché in quel periodo, fine dicembre, inizio gennaio 1099 c'era questa forte nevicata. Quindi furono costretti a soffermarsi nel paese e qui soffermandosi nel momento in cui loro riprendevano il percorso per ripartire venivano bloccati. Quindi il parroco chiese spiegazioni di perché questi erano sempre qui presenti e loro furono costretti a mostrare cosa portavano in questo sacro carico. Quindi il parroco capì che la Santa voleva restare a Stepino. Quindi abbiamo l'arrivo delle reliquie, l'arrivo dei pellegrini, la consegna delle reliquie al parroco e le autorità di allora e nel pannello centrale invece viene rappresentata Santa Cristina su una nave di minatori perché noi abbiamo molti migranti che puntualmente fanno le loro offerte, vengono comunque effettuate le celebrazioni in concomitanza con le feste qui nel nostro paese. Quindi c'è questo forte legame con gli migranti che allora espatriarono, ci sono i loro figli, alla ricerca di fortuna. Come ha detto Luciana, la cappella davvero racchiude tantissimi tesori che possono essere visitati sempre? Possono essere visitati sempre, la cappella è sempre aperta, se si trova chiuso il portone basta spingere perché Don Antonio non la chiude mai a chiave e si può visitare con tranquillità. Questa ma anche la cripta. Cosa c'è nella cripta? Nella cripta abbiamo questa statua che rappresenta Santa Cristina, che viene rappresentata proprio come una fanciulla di 11-12 anni. Questa statua ha la base in legno, poi è ricoperta da questo strato di gesso decorato, proprio un volto fanciullesco ed è quella più antica, come dicevo, forse ancora prima del 1400, costruita, voluta proprio dai cittadini, dai fedeli più poveri del paesello di allora. E poi girando ci sono i martiri di Santa Cristina. Noi abbiamo giù non tutti i martiri rappresentati, quelli più importanti, quelli più cruenti non furono rappresentati, quindi vi è il battezzo di Santa Cristina quando Tira viene battezzata in nome di Cristo e quindi si convertisce al cristianesimo. Poi abbiamo la Santa Cristina all'interno delle carceri, viene in presa prigioniera perché il padre urbano viene a sapere della nuova conversione della figlia, quindi la imprigiona. Siamo che sono riprodotti con statue tutti i martiri che poi voi anche in maniera molto capace, realizzate poi teatralmente nei giorni dedicati proprio alla Santa, quindi è un po' come un riprendere appunto quelle scene e poi nel caso vostro appunto riproporle al pubblico anche per semplicità ma per emozionarli ancora di più. Luciano, allora invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire a visitare Sipino, non solo nei giorni di festa che dedicati alla Santa sono tanti ma anche quando appunto non ci sono i festeggiamenti in nome della Santa perché davvero le peculiarità, gli aspetti artistici e storici di questo paese sono tantissimi, giusto? Sì sì, vi aspettiamo, siamo a disposizione, basta chiedere a Don Antonio, siamo guide turistiche quindi siamo del paese, qualsiasi informazione vi serve siamo a disposizione. C'è anche la Proloco, la Prosepino che è all'ufficio di promozione in piazza, quindi qualsiasi cosa potete rivolgervi ad un'autorità e vi dè le dovute informazioni. Bene, grazie. Allora insieme a Luciana che vi ha invitato a venire proprio qui a Sipino a visitare questa bellissima realtà. Noi vi salutiamo dalla Cappella Carafa, vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti. Potrete infatti vedere le nostre puntate di Viaggi Molise, in questo caso dedicate alla commemorazione della Santa e alla commemorazione dei caduti di Sepino nei prossimi giorni. Le state vedendo appunto anche sul canale 11 per il Molise, 96 per gli amici dell'Abruzzo, 880 per gli amici di Roma e Lazio e naturalmente per tutti i sepinesi e non solo i molisani nel mondo potrete appunto digitare il nostro sito internet www.telemolise.com o sul canale YouTube per cui avrete modo di visitare Molise attraverso il nostro viaggio in Molise. Grazie a tutti.